Vedete va Totti e adesso qui Pepe con il braccio, secondo me tra l'altro è più... No, questo è calcio di rigore, ecco da qui si vede meglio, da qui si vede meglio. Calcio di rigore. Ammonito Pepe. Adesso calcio di rigore per la Roma. Ancora proteste. Tanto Greco sta ancora discutendo qui, rivediamo. Pepe comunque è all'interno dell'area di rigore. Sì, no ma infatti non ho capito cosa stanno contestando ancora. Comunque, calcio di rigore, anche perché ce n'era uno prima, tra l'altro. Vediamo se si riesce ad andare a battere questo calcio di rigore o no. Calcio di rigore. Vediamo chi andrà, se Bucin c'è il capitano. Va il capitano. Totti contro Storari. Momento certamente importante della partita. È pronto Totti. Totti contro Storari, che tarda a dare il pallone al capitano, ma glielo dà anche con una certa strafottenza. È pronto il capitano. Totti contro Storari. Attenzione, momento importantissimo della partita. Potrebbe cambiare molto. È pronto il capitano. Pronto Totti. Totti contro Storari. Goal! 193! E l'incubo è scacciato. 193! Ma soprattutto il pareggio con la Juve. 1-1 abbiamo rimesso le cose a posto. Dai capitano, dai capitano. Perfetto, perfetto questo calcio di rigore. Nonostante le provocazioni di Storari. Lui freddissimo. Spiazza il portiere e porta la Roma al pareggio. Siete abituati male, cari miei. Siete abituati male. Due calci di rigore per averne uno. E Totti la mette dentro. Battene negli spogliatori, caro Storari. Ancora un gol da parte del capitano. Contro Storari. E allora siamo 1-1. Direi, Alessio, al di là degli episodi, meritatamente. Sì, direi di sì.